ciò che rimane della rimessa locomotive a bolzano della ferrovia del re nonna questo qua era tutto il piazzale della stazione ora c'è il supermercato e la funivia che ti porta sul re nonna la ferrovia passava qua fra le due case dove ci sono gli alberi e il signor piccava su per la montagna qua si vede ancora la spalla del ponte che sovrappassava la strada quel parapetto in mezzo alla natura era il parapetto del tratto a cremagliera che portava a santa maria l'assunta ecco è questo qua il parapetto che vi dicevo poc'anzi e con questo è tutto per oggi